ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo video panettanzino e tisanina no ancora manca il filtrino oggi 15 dicembre andiamo a prendere la tisana perché ne ho davvero davvero bisogno allora 15 dolci sogni rilassante sì mi serve mi serve ok rilassante melange di camomilla tiglio e verbena per favorire serenità e distensione ci serve allora frasi del giorno una delle due frasi del giorno ogni attesa nasconde un futuro che sta arrivando solo per te babini un futuro che sta arrivando solo per me spero che sia di buon auspicio andiamo a vedere 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 poi sì vi dico tutto bacche di rossa canina pezzi di mela fiori di camomilla foglie di verbena odorosa aroma naturale di ribes neri fiori di tiglio aroma naturale di valiglia aroma naturali lampone aroma naturali di pesca sti aromi naturali io questi non li compro più no gli aromi naturali non li voglio un freddo boia allora questo buttiamo qui mettiamo ho la tazza che assorbe l'acqua a parte che è tutta crepata dentro ma io l'avevo riempita fino a qua va bene beviamocela prima che la tazza si beve l'acqua vai vivi il momento presente perché è l'unico che ti appartiene veramente sì ok queste frasi sono ripetitive ho la tazza che beve da sola va bene poi mettiamo un attimino da parte panettoncino sono andata a fare spesa d'aurospin e ho visto che anche lì c'erano i panettoni e i pandori senza glutine infatti sopra non ce n'è ma tanto questo è soltanto con l'uvetta ho cambiato invece di fare sporcare sempre il piatto utilizzerò sempre lo stesso piattino con il panettoncino con un coltello che ha praticamente più o meno gli anni miei si accostelliamo il pantone vai ok e poi ci tagliamo la fettina è ok ops stavo accostellando anche voi anche voi odio i panettoni solo per questo non è male non è male non è male non è male allora dai tirati fuori si sbriciola tutto wow farti pezzi mangio io buon 15 dicembre non è male non male non male poi perché ho lasciato il panettonino il panettonino va bene panettoncino così imparo a parlare con la bocca piena per farvi vedere come lo conservo allora questo lo togliamo le posate ce le lasciamo ci rimetto il suo scatolone sotto sopra questo è il panettone che ho preso da vorspina ci rimetto il suo scatolone sopra così non rimane fresco e fragrante fragrante questo è morbidissimo ed è buonissimo lo consiglio anche a chi non ha problemi con il glutine sì sì non so cosa ha portato a fare la forchetta ma va bene goccio allora oggi andremo a scoprire le creazioni perché le creazioni non sono soltanto gli angeli ma ci sono anche gli scartini io intanto mangio allora questi qui sono quelli che io ho fatto con la prima colata quella trasparente in alcuni l'ho lasciata trasparente in altri ci ho messo un pochino di blu ma dentro ci ho messo anche del foil degli avanzi di foil che adesso vi faccio vedere questo è un esempio degli avanzi di foil che ho trittato finemente con le forbici ma sto vedendo che stanno andate tutte sul fondo allora 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 sì ce ne erano prima utilizzato sulla resina trasparente poi ho visto che stavano finendo qualcuna ne è caduta anche qui ma un paio per cui andiamo a vedere queste come sono venute solo alcune eccole qui sì sono andate sul fondo sono rimaste olografiche ma non sembra andate sul fondo questo stampo non è più lucido o non lo è mai stato ah ma tanto le pietre non sono mai lucide eccole qui vai tiriamole fuori tutte vai 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 questa l'adoro questa l'adoro mi ha fatto un po' di bollicine ma ve lo dissi a illo tempore speravo che si scoppiassero ma zero le micro bollicine sono rimaste però trasparenti sembra vetro più leggero nemmeno tagliente poi sì oggi faccio l'ingorda potete mangiare qualcosa anche voi eh vai facciamo merenda insieme tu goccia verde cosa ci fai qui niente blu due dai esci e tre ok girati sì non essendo proprio lucide non è che rifletta molto l'olografico il disegno però anche blu no questi questi cristalli intras quelle se si fanno trasparenti sono bellissimi poi fiacchi di neve e uno ho le le manine sozze forse un pochino e due dove siete ecco i qua e tre che questo è un pochino più bombato per cui ci vale un po' più di pazienza ed è sta già diventando bianco bene ok sì 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 ma ecco forse lo vedete c'è un cosino qui ma è giusto per questo blu mi piace non l'avevo mai utilizzato il blu della resin pro mancia me la mancia che devi ti devi nutrire sto tergiversando perché praticamente qualcuno mi ha dato brutte notizie per quanto riguarda l'effetto più ma fatto in quel modo ed ho una paura pazza poi questi invece sono gli avanzi degli altri colori vediamo com'è avvenuto l'oro si stava già catalizzando però non so perché ho fatto tutte quelle micro bollicine non è residuo sì c'era anche un po' di glitter quelli puntini verdi gialli che vedete sono un po' di glitter olografici quelli bianchi non quelli argento però 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 questo colore non è che me l'ha venuto poi gran che male ebbene infine il rosa anche lui questo rosa voi lo vedete più chiaro ma è un pochino più scuretto proprio rosa quasi strong infine la farfallì oh mamma oh mamma allora io ho già visto scusate bevo un goccino prima che me solo beve la tazza io ho già visto il retro degli stampi non dico che è così ma quasi adesso qui si vede poco ma è bellissimo questa è bellissima ci è finito un pelucco non era proprio piena piena per cui qui ci dovrò fare un po' di doming ma non fa niente non so nemmeno se se la voglio se voglio colorare i particolari perché ho paura che se ne va quell'effetto penso che la lascerò così ultimo boccone e poi arrivano gli angioletti ok via è un po' precaria come postazione ma al momento ci accontentiamo si oggi faccio faccio schifo va bene eccolo qui con questa bella sbordatura che mia fortuna l'avevo messo sopra un cartone qui ce n'è un po' di meno ma non è proprio sottile 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 per cui è sceso in qua questa invece è tutta bella anzi qua è pure bombatina qui è quasi precisa ci manca ancora un pelino qui è quasi è proprio bombata ma va bene va bene va bene e le ha fatto questa bella scendendo in giù le ha fatto questa bella sfumatura che da dietro sono il top io direi di andare a scoprire ci togliamo questo dente questo poi lo devo raffilare tutto quanto stampo lo stampo è ok è salvo e il nostro angioletto qua li devo togliere tutto sto po' di roba cioè cosa gli volete dire allora innanzitutto togliamo sta roba va ma togliamola proprio non la posso vedere dove 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 non riesco ad andare con le forbici vado con di cutter su ok facciamo un po' un po' cioè ok adesso posso andare di corpici più o meno così ve lo faccio vedere meglio perché quel coso mi stava irritando irritando non poco poi dopo lo pulisco meglio allora non entra nemmeno nell'inquadratura ma la trasparenza è stupenda ma vi faccio vedere bene i particolari i glitter vanno benissimo ma si sono formate tutte celle poi con il trasparente sotto gli da quell'effetto 3D che non mi dispiace affatto qui si vedono un pochino meglio ma sul retro non si vede niente no vabbè fantastica non è proprio effetto piuma non è proprio effetto piuma ma 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 bene 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 questa la penderò alla porta di casa questa è venuta proprio piena si qui c'è il il buchino per mettere il gancino no no vabbè non ho parole non ho parole questa effettivamente è più bella è più bella forse perché si è riempito di più qui la gonna qui perché è sceso e si mi piace mi piace di più bene come fuori porta ah e tra l'altro qui non so se si no guardate sembra l'effetto petri disce invece è come ho mosso il colore che non si è separato che non si è legato alla resina bello a differenza di questo questo forse come no questo l'ha fatto ma poco no vabbè ah troppo bello cioè ma se io questi li facevo con il bianco e con il nero gli dava quell'effetto di pietra posso sempre fare la prova vero bene 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 ci piace ci piace ci piace ci piace l'oro è andato tutto sul fondo perché è molto più pesante l'oro è andato tutto sul fondo ma gli altri colori che tra l'altro gli altri colori invece si no sono tutti quelli a base alcolica sono tutti alcolink sia il verde eh sì sia il verde sia il viola che il rosa e lo stesso l'oro perché ho utilizzato questo però qui siccome qui non ci vuole il bianco perché quando noi utilizziamo l'alcolink praticamente noi ci dobbiamo aggiungere il bianco che che tra l'altro è dovrebbe essere polvere mica dovrebbe ma non ne sono sicura per cui era più pesante perché qui c'era anche la polvere mentre gli altri erano proprio liquidi e ci avevo messo come bianco questo qui che era sempre liquido ma in teoria anche se il liquido comunque è un colorante coprente per cui sarebbe dovuta comunque andare sul fondo invece è rimasto proprio cioè le vedete tutte le onde che fa basta dire no vabbè non è una mia battuta per cui basta dire no vabbè no non ce la posso fare no mi piace mi piace è un effetto adoro 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 basta perché 20 minuti solamente a guardare questi due ma come fai come fai guardate anche su sfondo sul muro sulla sulla porta di casa come fai risalta ancora di più rosa il viola come fai non 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 puoi non puoi non puoi troppo belli troppo belli ripeto se li facevo bianchi e neri effetto pietra effetto marmo ci stavano da dio ma anche così mi piacciono bene ragazzi e ragazze giù punti a questo punto o punti a questo giunto come preferite io direi che prima che la tazza mi si beve la tisana finita solo io posso avere le tazze che bevono che si bevono il liquido dentro io direi che metto a posto e mi vado a riposare un pochino noi ci vediamo domani con un nuovo video mi raccomando pollice in su iscrivetevi al canale attivate la campanellina condividete commentate e create ve l'ho già detto non si sa mai esce qualcosa di buono ma i glitterini che si vedono voi li vedete poco perché avete il riflesso della lampada ma si vedono i glitterini ma i glitter vanno sul fondo oppure rimangono no penso vanno sul fondo anche sulla resina trasparente non rimangono sulla resina colorata peccato peccato ma lo rifaremo lo rifaremo io questo questo effetto piuma l'ho fatto a memoria per tutti i video che avevo visto che ho visto tanto tempo fa per cui è uscito così invece dell'effetto piuma è uscito effetto celle qui non so che effetto è uscito perché non saprei proprio dirlo perché ripeto sembra proprio un disegno di fiori dentro alla stoffa qui invece qui sembrano proprio celle ma qui sembrano fiorellini dentro alla stoffa va bene basta 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 e sono riuscita anche a farvi vedere il viola anche se il mio quel dal vivo è più viola ed è più rosa sono un pochino più scuri i colori ma va più non smetterò mai adesso me li appendo qua uno questo qui lo appendo qua sul muro questo me lo appendo fuori alla porta che mi manca mi manca qualcosa di natalizio fuori alla porta adesso ci metterò qualche fiocchettino e voilà niente basta chiacchiere ci vediamo domani ciao ciao ciao